permesso allora cazzarola quale cazzarola spicciare ci sia uscito cose tutto ma siamo adatto a cosa mangiava lo vediamo dopo entriamo chiamereghi ciao pistolino ciao pistolino ciao pistolino ciao pistolino ciao amico come sei il bravo per bestiali no io arrivo solo che con l'altra mi ha detto va che se andrì la zio serve un secondo è l'ora di mi ferme il momento cazzo due minuti arriviamo che vuoi da me e tu via non ci penso neanche ma che mia che cacchio è messo qua che mi è esso arrivato quel furgone adesso ha già fatto ha già fatto e succede su quelle cose che a una certa età capitano è una roba seria perché perché si allungano le balle bisogna sbassare la moto che cancello che cancello prepari i danini stavolta ci vuole stavolta ci vuole provo anche questa praticamente quasi eh caro mio quando bisogna cambiare bisogna cambiare bene è scherzo o no eh troppo di uno oh dai perché l'è stata illustrata è scherzo il cazzo io provavi tutto ce lo capivi eh te devi no quanto è il tuo ascoltami oggi è solo questa io provavi tutto eh su dai dai che la dai dai prepari su eh che zio non è tenda mia bevo il caffè noi non beviamo più il caffè era tutta una storia ah l'ho messo su guarda che è il bel mezzo dormito bravo è il bel mezzo eh